e dai dai è così che abbiamo vinto 5 a 0 nel secondo tempo ci siamo risparmiati per caso ma non lo so è fatto stare che abbiamo vinto meglio così perché un altro pareggio o una sconfitta non mi andava proprio giù e poi meno male perché sennò rischiavamo seriamente di non andare neanche al mondiale il prossimo anno però non è finita calmi perché a novembre ci saranno altre partite per questa qualificazione ai mondiali però per ora diciamo che mi sto tranquillizzando perché in questi giorni tra il pareggio e insomma nelle ultime due partite mica proprio benissimo quindi diciamo che così mi sono un po' tranquillizzato e ho visto con interpreti diversi che però giochiamo più o meno allo stesso modo quindi bravo anche il mister e bravi anche i calciatori non ho curato benissimo questa partita perché sono andato a correre con dei cut quindi vedrete a presto a breve insomma un bel video sul canale che vi lascerò sotto in descrizione forse cambierò anche il nome ma poi vedrò e in basso troverete anche il link del mio l'altro mio canale youtube quindi ovvero Makakomen e anche ovviamente il link per seguirmi su Instagram un'altra scala di video precedenti e riguardo a queste partite che abbiamo pareggiato insomma che vi ho detto prima e oggi devo ammettere Moise Ken ottimo e Pessina e Castrovilli ottimo Castrovilli anche un palo poi anche ho visto molto in forma beh la difesa intanto partiamo da quella non ha fatto chissà che ma perché perché hanno creato poco gli avversari la Lituania è andata al tiro cioè ha fatto pochissimo in attacco ecco sì quindi noi diciamo che anche Raspadori comunque ha segnato ottimo insomma vedete che no che se noi puntiamo se Immobile beh non diciamo che Immobile non sa giocare a calcio per favore come ho sentito dire da tanti perché non è vero niente ragazzi perché com'è che allora con la Lazio è un fenomeno e con la Nazionale no il modulo è lo stesso ma il modo di giocare è un po' diverso però anche Immobile deve rimboccarsi le maniche cercare di giocare più per la squadra senza pensare troppo al gol che poi i gol arrivano se giochi bene quindi quello che penso io è che non bisogna sempre a dire stupidaggini perché a dire che Immobile non sa giocare a calcio è un'offesa insomma molto grave che non ci sta però è vero che Immobile in Nazionale non fa bene non gioca bene e punto quindi è giusto anche provare altri calciatori nel caso al massimo lo butti la partita in corsa magari poi fa meglio insomma no e magari può anche risolvere delle partite ma se hai portato anche altri calciatori prova lì e adesso è stato bravo Mancini che ha messo anche Ivan Iscamacca Castrovilli li convochi per un motivo dico io e infatti avete visto che non ci hanno deluso 5-0 vabbè che era la Lituania però intanto l'importante è vincere fare i tre punti e dimostrare di aver fatto un buon calcio di vincere con molto insomma giocando come vuole Mancini e cercando di creare più occasioni possibili perché poi in gol prima o poi arriva allora devo ammettere comunque buoni tratti a tratti vedevo un bellissimo calcio azioni anche veloci come simile all'europeo ecco e il bello è che ognuno come deve essere insomma a mio parere per vedere un buon calcio e anche dei buoni risultati bisogna vedere che anche cambiando gli interpreti quindi cambiando i vari calciatori la squadra giochi allo stesso modo e riesca a fare insomma il dovuto io che dire ho visto una difesa tranquilla senza che non ha subito molto non ha so fatto molto ma d'altronde non avevamo una grandissima squadra che comunque non si è neanche difesa proprio bene diciamo che andata o noi comunque i nostri meriti ci sono dobbiamo far complimenti ai mancini e ai calciatori però ovviamente ci sono dei meriti anche degli avversari perché insomma gli avversari tutto sommato non è che abbiano fatto questa grande partita in modo difensivo e anche in offensivo sia offensivamente che difensivamente potevano fare sicuramente di più il loro allenatore a mio parere poi anche la squadra però comunque è quella che è perché i calciatori non è che ci sono questi gran fenomeni come da noi ecco comunque vedete noi abbiamo le capacità ma bisogna sempre stare là e tirarle fuori ogni volta secondo me nelle prime due partite che c'erano anche i titolari che hanno giocato l'europeo anche quest'oggi c'erano qualche titolare o comunque qualcuno che è entrato l'europeo ha fatto bene però diciamo che vedete loro hanno vinto l'europeo quindi entusiasmo le stelle pensano a quello e non si concentrano bene invece loro hanno tutto da dimostrare giocano il massimo e hanno portato il risultato molto molto buono ecco questo è quello che io penso spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi se volete se volete attivate anche la campanellina per apparvi tutti i miei prossimi video e ciao qui lotti sempre forza Italia e Lazio però in questo caso Italia l'europeo